nuova campagna di estra su risparmio energetico tre pubblicazioni con tanti consigli pratici per risparmiare gas e energia elettrica giocando anche sugli stili di vita energia in famiglia con estra e mucchi fino al 31 luglio con 10 prove d'acquisto di latte chi diventa cliente estra risparmia 50 euro sulla prima bolletta luce e gas estra ha una nuova app l'applicazione per android e iphone semplice gratuita funziona come un vero sportello self service da cellulare continuano i tentativi di raggirare i clienti estra con notizie false tra cui anche la chiusura della società estra energie conferma la validità dei contratti invita prestare molta attenzione alle offerte di metano e energia elettrica